Grazie Presidente, sì per molto meno, semplicemente per portare un piccolo contributo anche e soprattutto a seguito delle riflessioni che faceva il collega De Priamo. In Commissione Commercio, che io presiedo da poco più di un mese, questa proposta è passata recentemente, la settimana scorsa, e naturalmente proprio per come prevede la procedura è passata nella sua versione originaria e non poteva essere diversamente. Però c'è anche da dire che in quell'occasione è stato presente l'assessore Coglia, che ha illustrato molto nel dettaglio e la maggior parte delle modifiche, che sono quelle peraltro già approvate nella terribile alla 4 del 2021. Il consigliere Coglia ha anche discusso quelli che sarebbero stati poi eventuali emendamenti migliorativi, quindi c'è stata per tutti i commissari presenti, sì mi rendo conto che sono esclusivamente i commissari della Commissione Commercio, ma c'è stato un modo di capire un po' l'evoluzione di questo atto normativo. Ecco, questo è solo un'ulteriore informazione per dire, insomma, per illustrare come è andato un po' il processo di sviluppo di questa proposta. Grazie Presidente.